ben tornati amici del gameplay su game oversize sono tra 90 e stiamo su the witcher 3 allora ritorno alla palude del gobo ragazzi perché questa in teoria è una missione secondaria però visto che serva a concludere un arco narrativo ormai aperto che voi avete visto fino al video precedente quello del barone sanguinario e mi sembrava giusto portarvela così almeno da avere un quadro completo perché si chiuderà il ciclo narrativo del barone sia quello delle megeri della palude perché da qui in po dovremmo andare a novi grad difficilmente torneremo presto a velen o addirittura partiremo per le altre isole quindi dubito che ci saranno missioni qui vicino quindi adesso andiamo a vedere come si evolve la cosa sono curioso anch'io si vorracci manca pure un orecchio ma si è tamara là come cazzo si chiama siamo un po' colpioli di tutto noi eh speriamo non sarà difficile vediamo solo se posso preparare scusate se posso preparare una pozione antistrega ma dubito che ce l'abbiamo dove stanno quali erano quali erano un guento anti no non ce l'abbiamo quindi vabbè dai vediamo così di farcela vabbè barone andiamo quattro soldati si è portato un altro sta arrivando e siamo parecchi siamo solo che forse ho fatto un casino con 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 quello spirito là forse era meglio che non lo liberavo quella che sembrava una buona scelta però in teoria si dovrebbe anche ribellare delle meggere quindi su quello stiamo stiamo bene vabbè quanti sono su sei guerrieri più il barone più io più se sono ancora vivi i cacciatori di strega e tamara ce la potremmo fare tirate fuori le spade bravi e andiamo vediamo bene ragazzi questi qua sono abbastanza facili quelli che stanno a fare stanno fermi a combattere lì giù guarda che palle così su facciamoli fuori ci sono altri no finito che già abbiamo avuto una vittima avete uno di meno no no boh vabbè speriamo bene dai non morite vi prego che le meggere dell'ultima volta sembravano potenti però il nostro witcher gliel'ha promesso che è successo lì? sui cacciatori di strega stanno combattendo stanno oh aiutiamoli voi si incontrano padre e figlio cavolo ragazzi oh venite qua cavolo mamma mia tanto non è tornata vabbè calmatevi adesso prima salviamola vabbè E ora? Ma ho cambiato, chiede a qualcuno! Geralt, vieni, racconta! Il tuo padre, vuole trovare la sua moglie, la tua madre, davvero. Tu ti paga tanto per essere il suo sì? Bravo! In questo momento non servono a niente, non servono. Ma è buona quelle parole pure te, eh? Giusto! ... ... ... ... ... Potevi pres ci, i cronogi could alternare da ogni minuto. Ho! Come knew they're not here already? Sì, perché abbiamo ancora live. Perché stanno sempre sui! La grande Creo! What, bella la slide? Okay! ma questi ce l'ho già tornato anch'io erano vuoti calmati calmatevi non è il momento non è oh attenzione qui dentro chi è è la madre l'hanno punita in questo modo bene trasformate in una strega se non avessi liberato quel cavallo lì questo dimostra come in questo gioco non c'è bene male ma c'è solo una grandissima scala di grigi è buona questa per mo oh mio dio guardate la nebbia è bellissimo ragazzi siamo pronti qui perderemo perde combatto io lo sta fermo il cavaliere però facciamo di farli sta fermi il più possibile è diventata cattiva questa mi dispiace allora ah non è lei eh non sappiamo se è lei allora oh mio dio si funziona 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 un pochino dovevo mettere il tuono dovevo mettere lo sapevo cazzo attenzione ricarica di cazzo bene vai critico bello tutti critici vanno bene vanno no no stai lontano stai lontano carica carica l'arma sto segno ragazzi è una bestia che è dai critico vai bastardo no no stai lontano stai lontano no stai ancora lì Anna no stai lontano non sai stai lontano tu devi maschini che è vero con lei se niente io ero non ero niente era di essere potresti potresti ritorno sto non capisco lei non 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 una nuova qualcuno non mattina è Ah, anzi, eh. Bene, quel monstro gigante, ragazzi, dove è caduto? Sono curioso di recuperare i testi. Ok, uccisi, vuoi uscire Johnny. Eh, sarà scappato, chiamalo scemo. Ho sentito quei rumori strani, quei versi strani quando fai quel cazzo di coso. Johnny, sta qua, sta. Johnny, wake up. What? Who? Oh, Witcher! You frighten me. Not even those vile hags. Killed a few near your den. The crones sent them to punish me. Remember that crazy old woman who looked after the kids? Grand? Sure I remember. Founder in the crones village, transformed into a monster. Any idea how that happened? By happenstance, Grand mix some poppy seed and ash. Went by to help her sort it out. Mother Nature gave me small hands, see? So I can do it easy. Ma che sto verso si sente? No, 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 no. Separando seeds from dust. Out of nowhere. Grand cried out. The bark in her hand started glowing. She yelled at me to hide. I crawled into her chest. Barely had time to blink before the crones totted in. The weaves snipped a lock of Grand's hair. Called it punishment for letting the children escape. Then the hags opened the door in the floor. Went down. Sì, 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 sì! Non è vero che non è arrivato all'interno. Guarda un luogo sotto la porta. Non sembrava come un uomo a te? Non, tu sembrava come un tipo di inquisitivo. La mia inquisitività finisce da dove il cuore comincia. Resti nel cuore fino a che le crone si sono lasciate. Chiedi a te? Sì, senti a te, chiedi a te. Non puoi riparare il tuo cuore fino a che si vanno. Ma poi Gran si è arrivato al piso. Inizia a crerare e a tirare il pezzo. Non sapevo cosa fare. Quindi mi spaventavo dalla cesta. Pensavo che Herbes potrebbe aiutare. Le cose che ha curato le pezzi di bambini. Ma Gran non era più la sua. Era una bambina. Quindi? Dessi le Herbes? Non posso gestionare. Le Croni riusciano. Mi spaventavo a me spaventavano a Gran. La brusca pietta prima. Grazie a tutti i nostri spettatori Come notate mi sono tagliato la barba, gli ho tagliato la barba perché almeno sta un po' più pulito, tanto poi gli riesce. Corriamo insieme, va. Perché devo andare sempre solo, devo andare, stiamo tutti insieme qui a divertirci, e che cazzo? Andiamo a trovarla, eccola qua, dai andiamo, sento giù a schiacciare un pulsante, non compare ma non lo usa. Ah, raga, è impressionante questo gioco. Ne dediamo prima, va. Ah, sta venendo anche lui, bene. Chi altro? Solo noi due? Chi, 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 chi. c'era tantissima prima si sembrava assicurante cosa è tutto questo? il ritorno di una magia di magia che sceglie la pelle dell'amore attraverso le pelle le pelle si prendono un capo per le pelle in questo modo credo che una delle pelle rappresenta Anna possiamo liberarla se troviamo? è l'unico modo che conosco ma ci sono rischi le pelle che sceglie vedete? non vedete? si simbolizzano gli individui che le pelle rappresentano dovremmo trovare la pelle che è che ora chi lo sa? dovrebbe venire la figlia bene e? ok ora guardiamoci queste dolly ma siamo mati? un vecchio umano non può essere no no non lo so ma quello è che è non lo so non lo so non lo so ma non lo so non lo so non lo so Ah, ok, guarderò i altri. Hmm... Le pezzi sono in questo. Se avessi credere, credo che questa dolla rappresenta a Filippa. Filippa Eilhardt, se questo è vero, allora... Calma, il primo nome che mi ha avuto, è tutto. Filippa è troppo buono per i croni che l'avessero in qualche trap. Sì, non sono qui per Filippa. Siamo qui per salvare Anna. E non posso pensare di un link tra lei e le pezzi. Questo può sembrare evidente. Ma cosa se fosse una rusa e questa dolla, in realtà, simbolizza Anna? Non è vero. La croni non ha nessun motivo per uscire la tricolazione. Debbiamo guardare le altre. Hmm, questo è interessante. Una dolla con una pelle? Che cosa è interessante in questo? Non solo una pelle. Una pelle violetta. Non è una pelle violetta. Paren ha detto che era la pelle di Anna. Hmm... E tu credi questo per essere la pelle? Potrebbe essere molto bene, ma non posso essere sicura. Debbiamo guardare le altre. La pelle di questo. È una pelle di una pelle. Non è vero, Anna ancora ha due le pelle. Vediamo le altre. Hmm, è questa interessante. Un dolla con una pelle. Cosa è molto interesting? Non solo un dolla, una pelle violetta. Paren ha detto che era la pelle di Anna. E tu credi questo per essere l'ulla? Sto sicuro che lo è, prenderlo. C'erano le fatti di Berlina, vedi? Ora devo andare. Ma... cosa sta parlando, witcher? Chi è che sta combattendo? Questa la combattia gli altri intorno a noi. Mamma! Tammy, ricordatevi... ... quel giorno... ... sull'interno? Ovviamente! Questi plums sono così sui... ... nel tuo vestito così blu... ... in un momento triste, ragazzi... ... e riuscite il giorno. Poi... ...mi ricordatevi così... ... non c'erano... ... che sembrano cazzuti quelli ordinellati di cavaliere, eh? Ma chi è che combattia? Se sta ammazzato, se sta... ... se sta... ... se sta... ... ... la tua pagina ti aspetta a Parche... ... ... e qui c'era con me, mu? ... ... sta accettando troppo di quello che dovevo... ... 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